e bentornati e benvenuti su go italia continuiamo l'avventura la storia principale sono sicuro che veramente questa volta questa volta sono ci saranno altre interruzioni spero di missioni strane comunque la missione precedente è stata carinissima con lo cane fido vedremo come la dovrò nominare insomma va bene andiamo andiamo let's go vai fa che connors sia qui e ancora in controllo del suo alter ego verde dottor connors dottor connors è qui da quanto tempo va avanti la famiglia connors la moglie se n'è andata col figlio dopo il caso lizard non che a craven importi certo deve essere triste vivere da soli in una casa vuota la stanza di suo figlio amava gli animali doppio lavabo ma solo uno è in uso saliamo ma scendiamo doc aia conors era qui a quanto pare ha cercato di opporre resistenza qua non spezzioniamo niente è possibile carino la canzone della giostrina wow che rumore strano non ho idea nulla da accidenti doc che cosa ti ha fatto craven è passato da qui come fai ad essere ancora in piedi ehi la niente numeri sui tasti conors adora i segreti probabilmente il laboratorio proteggeva lui e la sua famiglia durante le sue crisi retti lari per i suoi primi test sulla rigenerazione degli arti non ho mai saputo come ha perso il braccio il sensore di movimento ha attivato le telecamere circa 30 minuti fa e cosa ti ho fatto voleva esaminarsi il sano avanti dottori resisti coraggio graven pagherà per ciò che ha fatto a conors e alla sua famiglia ok andiamo cioè andiamo anche no non l'ha fermato proprio come piace a craven sangue di conors la bestia è vicina ah questa è la sequenza famosa bellissimo voglio essere molto chiaro con voi lascerete in pace conors non merita tutto questo se voglio graven continuerete a inseguirlo ve la vedrete con me ve la vedrete con前 i obietà Seconda unità, sui lati. La cazza a lizard finisce ora! Graven capisce cosa ha fatto Connors! Solo per dimostrare qualcosa! È solo un gioco per lui! Satelliti in rilevamento. Triangolo la posizione. Versaglio al mercato del pesce di Harlem. Dirigersi all'obiettivo. Lizard è oltre il fiume. Non arriverò in tempo! Quindi, come facciamo? Notto Spider-Man. Ah, 800. Belle le trecce. Sì, ogni anno c'è più piccoli. Ah, ok. Sì, ok. Sì, si vede, sì. Lì è ancora libero. Alla città servo io. Spider-Man, intendo. Aspetta. Pit? Che cosa c'è? Il mercato? Sì, sì, arrivo. Scusami. Ti scrivo, ok? È bellissimo. Il murale, dico. Era ora che Pit mi richiamasse. Ehi, come vanno le cose con Ailey? Brutto momento. Lizard è scappato. Servono i tuoi spioni volanti. Quel lizard? E poi Ailey dice che è stata una pazzia cercare Martin Lee. Lo pensano tutti. Stiamo proteggendo. La vendetta non è... Io non voglio vendetta. Papà credeva nelle seconde occasioni. Ma non è questo il caso. Sono io a dover proteggere voi, non il contrario. Ho capito. D'accordo. Fammi avviare il sistema. Sembra vuoto. Meglio controllare. Attenzione. A quanto pare ho compagnia. Tutti fuori. Presto. Via, via, via. Accoppia. Occhi aperti. Usano i droni per seguire Lizard. Beh, potrei usarli anch'io. Sono difese passive, quelle. Porca. Starò lontano. Buono a sapersi. Non devono trovare Lizard per primi. Mettiamoli fuori gioco. Dividiamoci. Se trovate Lizard, non attaccatelo da soli. Ehi, ho ricevuto il tuo aggiornamento. Cacciatori a pacchi. Usano i droni per rintracciare Lizard. Credo di sì. Perché? Ho un'idea. Ci lavoro mentre ripulisci il magazzino. Guarda questo fesso. Sì, ho rompito le palle proprio. Tra le braccia di Morveo. Ho sentito. È piccino. La sala cinesca si apre. È fuori assi. Qui serve un cremium. È successo a Guamatarra! Oggi sarà la sua vita. Do copertura. Sveglia tutto. La trave non interessa questo regno. Uccidiamolo. Cosmo avvicerà la preda. Ehi! Non è carino! Torna giù! Comunque la vostra preda si è sbappata a quintali di pesci morti. Ma ora vuole cambiare menù. Tu in letto! Quindi se c'è una preda, non è certo il lucertolone. Non mi stanco mai di guardarti mentre festi di brutto. Abbiamo il nostro drone! Forse il tuo costume può hackerare la scheda madre. Ok. Proviamoci. Ok. Mi sto collegando. Pronto. Ci ero dato Unix. Ok. Riavvio l'altimetro. E... E' vivo! Che ne dici? Beh, dico che è un gran bel drone. Ehi! Un gran bel drone sulle tracce di Lizard. Grande! Che velocità! Deve essere andato di là. Sembra di guidare un garromato! No! Qui si mette male! Yankee? Tutto ok? Sì! Ma questa strada è bloccata! Tranquillo. Ci vediamo dall'altra parte. Forse il garage guarda Yankee e... Ah! Ah! Forza! Meglio se me ne vado. Non è opera di game Eccola qua Sì, è rata sushi Ok 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 Era di sicuro lui Eccolo Chissà cosa c'è dietro la porta numero uno Cosa? Dov'è rifinito? Non lo so, ho visto certe cose Anch'io Siamo a trovare Lizard Certo, sì Ma il drone non l'ha localizzato Lo sento Qui da qualche parte Quasi preso con la corte Non capisco dove I dati del drone sono parecchi e incompleti Cerca Lizard, non è che è proprio semplicissimo Genki, resta dietro di me Non devi dirmi Scanciato È solo la pelle Quindi ora è Più grosso È affamato Oh oh Cosa? Non male È nuovo? L'edificio è pieno di cacciatori Novità su Connors? Sì, Genki Lo sta seguendo Ehi, signor Parker Signore Spider-Man Ma i dati sono incompleti Forse posso aiutarvi Ah, quello è sangue Ehi, un attimo Andiamo a metterlo qui Scanner integrato Utile Wow, questi dati spaccano Un secondo Ok, ho trovato qualcosa Ehi, Genki Con calma Non ero io Neanche io Io neanche ce l'ho Uno stomaco Andiamo Dai Che ci fa quest'altro boss Insieme Come Sandman Via, via, via Ci serve vivo Non posso perdere Connors Terry sta male E lui è il solo A poterlo aiutare No Tu prendi i droni Io le moto d'acqua Spider-Man è qui Ehi, me lo presti? Ah Ah È super, super emozionante Nervi saldi, coso E occhio a quei droni Tranquillo Mi rilevano come alleato Spider-Man Ellie Stendiamolo Date una festa in yacht Senza di me Ma die This river Non è un fiume Ma Un estuario Di acqua salata In cui Spider-Man Sta combattendo la parte si è vista durante le presentazioni di spiderman non tutto ovviamente ma attenzione l'elicottero non si arrende sono dietro di te abbattiamolo insieme non c'è tempo sei mio tenetevi forte ragazzi no 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 attento a delle contro misure spiderman resisti no wow mails aggrappati presto è spietà di te lo so lo so sia più veloce vola più veloce non voglio venire divorato porca miseria porca miseria misure fate tutti quanti a riparo che state facendo ragazzi cerchiamo di fermare quell'elicottero non riesco ad avvicinarmi ma io sì sono uno dei loro ricordi cosa? è fatta Pete alle U-Vol-3 ok uno due tre cava vaga me lo me lo riferimento è stata Ruga Ninja che ha una banga comunque va bene ci è sfuggito oh porca tranquillo Pete ho il rilevatore bravo forza andiamo prima che si allontani no è mio ne sei sicuro ha dei bei dentoni anche io non fa sempre così vero? no non fa mai così cambio di look completato viene dalle fogne sotto l'upper west side vado ehi trovato qualcosa da Connors no lo sto conto 4 qualcosa non va niente certo niente Miles era fuori forma l'avevamo quasi preso voleva soltanto rendersi utile in certi casi è meglio sbrigarsela da soli ma non è giusto Pete siamo una squadra abbiamo bisogno di Connors per Harry ok chiamami quando lo trovi a posto a posto a posto sta facendo stare errori strani vabbè abbiamo una pie su 5 speriamo che si sta ruppando adesso e niente faremo questo prossimo prossimo episodio un saluto a tutti da Go Italia ciao 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 Grazie a tutti.